Oggi ragazze giornata sfide Ho per voi una challenge davvero bellissima Tanto si sa che vince sempre le challenge Challenge del giorno sarà Faccio shopping solo dell'iniziale del mio nome Cosa? Tu Aurora potrai acquistare solo cose che iniziano con la A E tu Ludo potrai acquistare solo cose che iniziano con la L Ma attenzione chi di voi riuscirà ad acquistare più cose Vincerà la challenge Ma con la A che cosa cavolo posso comprare? Io guarda Al mio 3 si parte, si va in giro per Verona E si entrerà in tutti i negozi che vi indicherò io Vindicherò le persone in aria Il tempo a disposizione sarà di 30 minuti Tu non vincerai mai Ma voi signorine siete disposti ad accettare questa sfida? Sì perché noi non ci arrendiamo mai Sì perché noi non ci arrendiamo mai 3, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! Primo negozio... De Zenith! Ok, io direi di partire... Vi ha visto qualcosa! Non ho, non ho, non ho! Sbaglio! Non c'è il mondo dei costumi! Mi ricordano di essere interessate! Trovate qualcosa con la A, con la L! C'è anche delle scritte sopra delle magliette tipo... C'è una maglietta scritta Aurora... Maglietta? Inizia per caso con la A? Si chiama Aglietta! Eh, Aglietta! Posa, subito! Ragazzi, venite, venite! Io so già qualcosa qua! Vediamo tu cosa riesci a trovare, Ludo! Mi sa che queste non sono proprio cose per te, eh! Eh, direi anche di no! Mamma, ma che cosa hai visto questa cosa? Non lo so, non ho idea! Io questa qua... Me la tengo un attimo per me! Poi vediamo! No, vediamo proprio un bel niente! Non vediamo! Mi sa, ragazzi, che qui per voi non c'è proprio niente! Andiamo a vedere di là! Questa, guarda che carina questa! Peccato che... Oh! È una canotta! Inizia con la C! No, no! No, no! No, no! È inizia! È inizia! Eh, però... È carina, ma mi dispiace! Non inizia con la L! Allora, se non la vedete di fare... Io cosa ho fatto? Posate tutto! Tutto ciò che non vi ha partito! No, no! Questa non è niente! È solo il mio pranzo! Mmm! Posate! Questa è la mia copertina! Questa è la mia copertina! Subito! Guardate che il tempo sta per scadere! Avete a disposizione 30 minuti, non di più! Questa felpa? Com'è? Felpa? F? No! O pensi che forse si chiami A felpa? Qui non c'è nulla! Dove andiamo? Eh? Prossimo negozio! Venite con me! Nella giotteria! No, no! Stavo scadendo! Scusa! Presto che il tempo scorre! Auri! Muoviti! Come va così veloce? Presto ragazze, presto! Il tempo sta scadendo! Negozio di caramelle! Dopo vi tocca anche il negozio di caramelle! Se il tempo non scade ovviamente! Il punto è che non c'è nulla con la A! E neanche con la L! Se non riuscite a trovare niente mi dispiace! Perdete entrambe la challenge! Prossimo negozio! Kiko! Andiamo! Prossimo negozio! Prossimo negozio! Prossimo negozio! Kiko! Mamma! Io posso prenderlo! L'ugina labbra! E' bello! E' bello! E' bello! Allora! Scegliamo qua! Scegliamo questo! Mamma! Io posso prendere il colore e usare la principessa! No! Ludo! Quale colore hai scelto? Vediamo! Questo! Interessante! Allora! Questo è il tester! Prendi quello lì chiuso! Vediamo! Non lo senti però! Fammi vedere! Bello! Quindi quale? Numero 4! Mamma! Prendo questo! Va bene! Primo acquisto per Ludo fatto! E tu? Cosa prendi? Nulla! Non posso prendere nulla! Colà? Non c'è niente? Ombretto, eyeliner, mascara... Cosa puoi prendere tu? Non c'è nulla! 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 Però aspetti! Tu hai già fatto un acquisto! Non c'è nulla! Prossimo negozio! Caramelle! Venite con me! Prossimo negozio! Giochi preziosi! Ludo! Sei nel tuo mondo qui? Sì! Sì! Guarda quante belle cose! Wow! Che bello! Però mamma! Ti giuro! Dopo a scacciare a leggere! Prendo qualcosa! Bellissimo! Ragazzi! Ma che bello è questo negozio a Verona aperto da poco! Ragazzi! Ma che c'è? Un buco! Per provare! Ragazzi! Ma questo è la camaretta che sogniamo! Guarda! Quando ero piccolino! Guardate che bello! Ragazzi! Venite un attimo! Wow! Bellissimo questo negozio! Non c'eravamo mai entrati! No! Vabbè! Stupendo! Ma che bello! Ragazzi! Topogigio! Ludo Topogigio! Vediamo! Vediamo cosa vuoi comprare! Vediamo! Ci sarà qualcosa con la L? O no? Sì! Guarda qui! Guarda qui questi! Guarda qui Ludo! Cosa sono questi? Ah sì! La sua questa! Bomba da bagno! Wow! Ma questo ce l'ho già! Eh! Ma non le puoi acquistare! B! Bomba da bagno B! E questi! Che carini! Sono bellissimi! Sono bellissimi! Sono pronunciato! La mochina! Ah! La mochina la puoi prendere! È vero! No! La mochina! È vero! Mamma! Guarda che belli! Vediamo! No! Vabbè! Stupendo! Guarda! Ci sono anche i sticker da applicare su lui! Sì! Ma però non lo posso prendere! Eh! Mi dispiace! Non puoi! S di smalto! Tu puoi prendere tutti questi! Guarda! Mamma! Questo è un libro! È vero! Vediamo! Cosa c'è scritto! Vediamo! 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 Lipgloss! Sì! Questo lo puoi comprare! Mamma! 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 No! Vabbè! Stupendo! Questo lo puoi prendere? Sì! Va bene! Lo puoi prendere! Guarda Auri che Ludovica già sta a tre cose! Io mi sa che torno a casa soltanto con un amico! Eh sì! Ma che belli tutti questi abiti! Wow! Ludo! Hai visto questi vestiti tutti fatati? Guarda! Che bella connellina! Guarda qui Ludo che bella! Sai che ho trovato un mio mondo! Cosa? Oh vabbè! Il tuo mondo è questo! Ludovica e i peluche ragazzi! No no no! Guarda! È la posizione di Leo! Sì è vero! Guarda quelli che grandi Ludo! Ma sono bellissime! No mamma dai! Io voglio questo! Eh! Come inizia? No! No! La parola peluche con la? Peluche! Con la P! Quindi non puoi! Infatti mi chiamo Paola! No! Mi sa proprio di no cara! Non puoi stare il nome per il giorno! Non puoi stare il nome per il giorno! Non puoi stare il nome per il giorno! Guarda che bella peluche! Andiamo giù un attimo! C'è anche il piano di sotto! Ragazze vi vorrei soltanto far notare che già è passato il primo quarto d'ora eh! Il tempo sta scorrendo! Il tempo sta scorrendo! Mamma! Guarda che bello! Wow! Che belle tazze! Ludo! Dai! Io voglio andare a piano di lui! Peccato che voi non potete prendere niente qui! Anche questi! Che belli questi fermaglietti! Ragazzi ragazzi! Andiamo a vedere il piano giù! Andiamo a vedere sì! Mamma! Eh? Questa è delle principesse! Sì! Ma qua c'è una principessa molto particolare! Ma peccato che non è la sola di essere in questo scatolino! Ragazzi andiamo giù! Dai! Venite! Ok! Scendiamo giù! Andiamo! Auri! Mi sa che sei un po' sfortunata in questa challenge! Non c'ho sbaglio! Silenzio per favore! Grazie! Oh! Bonapoli! Eh! Qui ci sono tutti i giochi da tavola ragazzi! Sono tutte quante le leggo ma peccato che non mi chiamo Lucrezia! Guardate qui quanti giochi! Oh! Eh! Mi sa che qui nella vostra iniziale non c'è più niente! Ti faccio vedere io che resta! Ragazze! Ma c'è una cosa che vi accomuna tutte e due! Che cosa? Questo! Fammi vedere! Gallina! Qualcosa? Siete due belle gallinelle! Mamma! Mamma! Io... Io... Io avrei problemi! Che hai preso tu Ludo? Questo è per fare un sacco di sfide! No! Mi dispiace non si può! Non inizia con la tua iniziale! In qualche anche non voglio fare le sfide! Questo ci ha accumulato tutte e due! Bello! Unicorno pazzarello! Non posso prendere questo! Vediamo! Inizia con la A! Sì! Guarda! No! Mi sa di no! Posa! Ma questo è bellissimo! Tu devi fare il mare! Metti giù! C'è anche Leo qui! Leo! Leo! Suggerisci tu a queste due gallinelle quello che devono comprare! Ragazze! Il tempo scorre! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Allora! Guarda! Si è scantato con le nostre canzoni! Allora si è troppo che... Ding dong! Yeah! Fai tu unicorni! Ragazzi non vedete sul quarto! Wow! Leo canta, canta! P barely Posso che farci sentire il prodotto Verona? C'è qualcosa di speciale questa musica Che fa diventare una giornata magica Come polvere di stelle e lei mi fa volare Io ballo e lei canta Cavalchiamo sui colori di un arcobaleno Sai che il nostro sogno si realizzerà davvero Grazie alla felicità coloreremo il cielo Noi siamo gli unicorni, grande esercizio del cuore Se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale Noi siamo gli unicorni, beh vieni a cantare con noi Oh 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 non ci arrendiamo mai E allora, lo sai, gli unicorni non si arrendono mai Bravissime Mamma, sta screndo il tempo Andiamo a pagare Una mucchina Dai, meglio di niente, su, andiamo Hai ragione Cos'è? Un burro cacao Peccato che non inizia con la... Mamma no, lo posso prendere Non puoi, mi dispiace Ma guardate qui cosa c'è Madonna, sono dei sciupaciù a bomba da bagno Ma questo si chiama... Ho inventato il nome... Si chiama Agilate No, è quella è un gila Eh no, si chiama Agilate Niente, Auri, posa, posa, posa Questi sono dei rossettini Mi sa... Ragazzi, guardate qui Vediamo questo specchietto, che carino Ok, andiamo a pagare No mamma, io voglio qualcosa di altro qua Il tempo sta scadendo Non si può Ragazzi, guardate qui Bello Eh, ma mi sa che qui la L non c'è C'è qualcosa con la L qui dentro? No Wow, anche questi Quante cose belle Mamma, Ludovica Vediamo No, non c'è scritto il Ludovico No, c'è scritto lo di lovo Però c'è la la Eh, ma è un bracciale È un braccialetto Mi dispiace Questo... Ah, pensiamoci cosa è scritto Questo è come si chiamano Mollet Mollettine Arco baleno Hai ragione Lecca lecca Arco baleno Lecca lecca Questo ve lo potreste dividere Fatto a me Vediamo Lecca lecca Arco baleno Eh, ma deve essere d'accordo anche Ludo Ludovica, cara E vorresti queste bellissime molettine No Eh, mi dispiace Vabbè, allora togliamo le... Eh, no, si può Si vende tutto insieme Ma, Ludovica, ma io veramente Guarda, però Allora prendo questo Scusami E quelli sotto cosa sono? Fiocchetti Foffo Mamma Qua c'è l'allò C'è l'allò, però È solo un nome In realtà si chiamano braccialetti Come ho visto questo? Su, ragazzi Andiamo a pagare Altrimenti non ho riuscito ad andare più da nessuna parte Ve lo dico Il tempo sta scadendo Tic toc Tic toc Mamma, io ti volevo da un sacco di tempo Ananas Eh, ma è un braccialetto Non c'è solo l'ananas Eh Io direi di andare a pagare Che bello Lo sai che questo Ce l'avevo anche io da piccola Allora me lo compro Ma come inizio? Vediamo un po' Qual è l'iniziale di questa Di questo giochino La C Crystal Ball Crystal Ball Quindi posa No, no, ma guarda come fanno No, no, posa Pagate, dai che sta scadendo il tempo Non l'abbiamo uscita Allora avete pagato, sì o no? Sì Io ho tanto la mucina Che bene Ecco qui Grazie Grazie mille Buona serata Mia, come stai? Ma che seri l'ananas Presto ragazze Che il tempo sta scadendo Avete solo 5 minuti Per andare nell'ultimo negozio Let's go Tiger Io e la mia mucina Possiamo pure andare a casa Non si è fatto buca Wow Speriamo che da Tiger ci sia qualcosa Allora Tu sei proprio sfortunata Devo dire Cosa hai trovato? Solo la mucina Mamma Non è colpa mia Se mi chiamo Aurora Evidentemente qualcuno Ovvero tu E papà Mi avete dato questo nome Non potevate chiamare Potevate anche chiamarmi Raffaella Lucrezia Paola Presto Lo so io Paolo Presto Devo dire che sta vincendo Ludovica questa challenge Perché io tro Quante cose hai trovato tu fino ad ora? Due E tre E tu Auri? Dieci Dieci? Mi sa che tu fino ad ora Hai trovato una sola cosa Ma perché non chiamiamo gli oggetti Gli oggetti Sono pure cinese Gli oggetti In inglese e spagnolo Così qualcosa con l'ace No Vai Quarto negozio Tiger Via Su Avete cinque minuti a disposizione Ragazzi Guardate qui che carine queste gomme Eh mamma Mamma mia Ragazzi avete poco tempo E vi conviene Muovervi Sbrigarvi Ragazzi guardate Sentite Cos'è questo coso? Astuccio 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 È vero Brava Adi astuccio Però andiamo a trovare un astuccio più carino Perché questo non mi piace Ragazzi guardate Troviamo l'unico Che bello Però questo è un diario E mi sa che tu non lo puoi prendere Qui qualcuno ha trovato un astuccio Però voglio un astuccio più carino Ragazzi venite un attimo Guardate Che bello Per la cacca Eh insomma Per l'uomo Ma c'è l'astuccio più carino Vediamo Non ci sono esserci carini No Qui no Ragazzi io non vedo niente che vi possa aiutare qui Eh Ma dove è il pensiero del popcorno? Niente Non c'è niente Ragazzi andiamo qui qua Quanti Boh Bolle Eh sì Non puoi Mi dispiace Ah Acquarelli Ah è vero Ah di acquarelli Sì Queste fanno le bolle giganti Eh ma tu non puoi prendere Le bolle Aurora ha finalmente trovato un'altra cosa Eh Io pure l'astuccio l'avevo trovato Ma dove l'ho messo? Colla No colla no Colla No no Va Naso No Bello questo qualcuno Andiamo a vedere di là Bello Tutte queste gomme mamma Che belline Quasi la mattina Sono tutte delle gomme mini Che carini Ragazzi ma questo è quello che ci avete regalato voi Sì un'onicornina Un'onicornina ce li ha regalate queste Andiamo Mamma questo è un astuccio È un astuccio? Eh sì Puoi Brava Stai recuperando Aurora Brava Guarda Ludo che Auri sta recuperando Ah vabbè Vediamo chi vincerà poi Mamma guarda che bella La so cantare La so suonare casomai Va bene Però non puoi prenderla Mi dispiace Agenda Anelli No Ludo Guarda che Mi sa che sta vincendo Auri Sto recuperando Affrettati a trovare qualche altra cosa E sai per festeggiare cosa facciamo? Mamma Ho trovato questi Cosa sono? Ve la che frizzano Lollipop Li puoi prendere Lollipop E io Acqua E io un'altra caramella Le liquirizie Sì Bene 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 Allora andiamo a fare il resoconto Delle cose che avete acquistato Ok Eh questi non li puoi prendere cara Neanche questi Biscotti Biscotti E questi per cos'è? Questo è un gel decorativo per i cibi Niente a che vedere con la tua iniziale Però Lecca lecca E' vero Però prendo queste E' più bello Questi li puoi prendere Fammeli vedere Sì Lecca lecca Ok Andiamo a pagare allora No No Metti giù Metti giù Non prendere cose Che non puoi prendere Adesso faccio vedere Lenni Che cosa? Prima io Prima io Ok Ok L di libro Poi L di liquirizie Lecca lecca Poi Lucida labbra E Vediamo 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 Lolliboy No c'è un'altra cosa E poi Liboy Siamo a Sei Aspetta come Vediamo tu Auri A Di acqua Ok Poi A di agenda Come potete vedere Una bellissima agenda Ok Ottimo Poi A di astuccio A di acqua Rale A di anelli Ok E ragazzi miei Non sono a 5 Perché manca un'ultima cosa E La bochina Sì all'inizio sembrava una cosa Che Chi se ne frega Ma invece Mi è proprio servita E a quanti oggetti siamo? 7 Mi sa che questo è un pareggio Eh Ho sbaglio Sì che è un pareggio Io volevo vincere io Vediamo quante cose sono 1 2 3 4 5 E E la bochina 6 E 6 Pareggio Tempo scaduto Challenge Completata Beh Però ragazzi Cioè io sono partita da Letteramente Uno E lei ha tre E poi siamo arrivati Pari Sei stata fortunata Tiger ti ha salvato la challenge Ludo E adesso Visto che Avevi la vittoria in mano Ma per un pelo Aurora ti ha fregata Ma non riesco ad aprire la bochina Vabbè dai Facciamo dopo Ok Vabbè ragazzi E poi non riesco qui Dove sentiamo Speriamo che questo video vi sia piaciuto E Vabbè ragazzi Iscrivetevi Attivate La campanellina E lasciate tantissimi pollicioni E Salute Fatelo Ciao 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 Io me ne vado E io me ne vado A mangiare Questo Io mi lascio sempre qui Da sola Vabbè me ne vado pure io Ciao Ciao Ciao